Cari fratelli e care sorelle, benvenuti e bentornati nel nostro canale YouTube della redazione Papa Boys. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Oggi è la festa della Beata Vergine del Rosario e vogliamo dedicare alla Mamma Celeste questo video. Questa memoria mariana, di origine devozionale, si collega con la vittoria di Lepanto, 1571, che arrestò la grande espansione dell'impero ottomano. San Pio V attribuì quello storico evento alla preghiera che il popolo cristiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del Rosario. Secondo quanto narra la tradizione, c'è una speciale protezione mariana per tutti coloro che lo recitano devotamente. La garanzia che i fedeli non moriranno senza sacramenti. L'assicurazione che quanti propagheranno il rosario verranno soccorsi dalla Madonna in ogni loro necessità. Vergine del Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a te. Con fiducia di figli guardiamo il tuo viso dolcissimo. Coronata di dodici stelle, tu ci porti al mistero del Padre. Tu risplendi di Spirito Santo, tu ci doni il tuo bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Correndoci il tuo rosario, tu ci inviti a fissare il suo volto, tu ci apri il suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio, fatto uomo per noi. Ai tuoi piedi, sulle orme dei Santi, ci sentiamo famiglia di Dio. Madre e modello della Chiesa, tu sei guida e sostegno sicuro, rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A te ci affidiamo, Madre di misericordia. Ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il tuo cuore. Oh, rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena ad amore che ci fa fratelli. Noi non ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. E il bacio a te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e del Figlio divino. Anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Puoi recitare questa preghiera alla Vergine ogni giorno, con fede e devozione, confidando nella sua intercessione e nella misericordia di Dio. Grazie, cari fratelli e sorelle, per averci accompagnato in questo momento di riflessione e preghiera, con l'umiltà e la presenza della Beata Vergine del Rosario. Continuate a coltivare la vostra fede ed a pregare con fiducia, sapendo che Dio è sempre con voi. Vi invitiamo a condividere questo video con la preghiera alla Mamma Celeste, con coloro che potrebbero aver bisogno di conforto e speranza. La fede è un dono prezioso che possiamo diffondere con amore. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle, per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche per far crescere il canale. Arrivederci a tutti al prossimo video insieme nel canale YouTube della redazione Papa Boys. Dio ci benedica.